Basta guardare, è veramente la tela di Arianna, fanno i buchi, ritornano a fare i buchi. Sì, la preoccupazione c'è e è anche molto seria. No, non finiranno per Natale, è inutile che ce la raccontino. È stato detto che finiranno in tempo, ma c'è un po' di preoccupazione. Quale tempo? Di quale anno? Se mi dice del 2021 sì, ma del 2019 no. No, matematicamente. Ormai siamo pratici, via Aquileia, l'esperienza che abbiamo ci dice tutto. Manca poco più di un mese a Natale e la preoccupazione tra i commercianti di Via Mercato Vecchio per riprotrarsi del cantiere di rifacimento della strada cresce. È vero che la posa della pietra piasantina è cominciata, ma il maltempo degli ultimi giorni ha ritardato un cronoprogramma già di per sé non molto incoraggiante. Il timore è che il mese di dicembre, clu per gli affari, negozi ed esercizi pubblici debbano convivere con i lavori, con tutte le inevitabili conseguenze. È tanto tempo che lavorano e non lavorano sempre abbastanza ovviamente secondo noi e siamo preoccupati perché il Natale è un momento particolare dove puoi risolvere anche delle problematiche economiche della tua azienda e quindi i commercianti di Via Mercato Vecchio sono veramente ancora preoccupati. L'ultimo incontro con il sindaco e il vice sindaco ci avevano detto che dal 1 al 4 dicembre avevano chiuso fino all'altezza di Via Merceria esattamente. Però è piovuto due o tre giorni quindi ritarderanno sicuramente due o tre giorni. Io ho chiesto e sperato e ho tornato a chiedere che invece arrivino al progetto iniziale che era quello del primo lotto che doveva finire all'altezza della cassa di risparmio. E spero che arrivino veramente fino a quel punto. Speriamo bene che facciano qualcosa perché veramente abbiamo un calo dal 50 al 30% ed è tantissima problematica economica piccola come le nostre. Lei e i suoi colleghi cosa intendete fare? Qualche attività particolare a dicembre per attirare la clientela? Sì, ci stiamo pensando e sicuramente troveremo qualcosa ma più di quello che facciamo ogni anno sicuramente non possiamo fare. Sarà una promozione della via, faremo qualcosa di attrattivo ma ancora non abbiamo ben definito perché dipende sempre se il cantiere è aperto o chiuso.